Buongiorno e benvenuto, sono Mauro, il titolare dell'agenzia e dell'autoscuola di Carlo Nomaresino. Se devi fare il trapasso di una macchina, di una moto, di un motorino o anche di un camion, sei nel posto giusto. Perché perdere tempo ad andare alle poste a fare la fila per pagare un bollettino? O andare alla motorizzazione a perdere tempo a fare la fila per il libretto o al pra per i certificati proprietà? Quando basta che vieni da noi con il libretto, con il certificato di proprietà e con i documenti e in qualche minuto noi ti facciamo tutto il trapasso. Non perdere tempo, chiamaci al numero di telefono che trovi qui sotto e fissa un appuntamento oppure mandaci una mail sempre all'indirizzo che trovi qui sotto. Chiamaci per qualsiasi motivo, per qualche informazione, non esitare, siamo qui apposta per darti tutte le informazioni per i trapassi dei veicoli. Un grosso abbraccio e a presto!